Ciao a tutti da Joker Game Vorrei usare l'Avenger in una missione per vedere un attimo cosa fa se mi da una mano le missioni a meno che non me la mette proprio lì nell'aeroporto dov'è? vediamo dove l'ha messo eccolo qua a 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 adesso vediamo la sua potenza contro tutti questi qui sono in tanti a 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 e la missione l'ho finita è veloce vediamo dove mi ha messo l'Avenger non riesco a vederlo ecco ecco ho visto l'icona adesso perché lui è potente quindi quindi mi da una mano nelle missioni ho detto usiamo proviamo vediamo 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 a però stavolta gli entro da dietro se no eh non puoi accedere alla stiva e la vendita ma dai che mi stai fregando ma non puoi accedere alla stiva allora andiamo su carrero salito si andiamo su e vediamo adesso contro di questi qui ok ok attivato il pilota vediamo cosa fa io prenderei la torretta sopra a questo punto non puoi accedere alla stiva ma cazzo ok allora a questo punto faccio appena appena aereo per allontanarmi da questo qui un attimo per allontanarmi da questo qui un attimo non puoi accedere alla stiva mentre sei in questa zona ancora continua a dirlo ok vediamo adesso non puoi ancora devo spostare la vendita in una zona più adatta come mai adesso mi sposto io in una zona appena ecco ok ok allora a questo punto dove sono? non posso mettere il pilota quindi il pilota automatico quindi mi devo arrangiare io lo metto? si il pilota lo metto ahahah ho preso la venger eh si così mi ho risparmiato un sacco di proiettili anche la vicina è qua sotto eh no non atterro facciamo una bella cosa ecco togliamo il carrello eh servizi avenger attivo il pilota si ho capito però io mi butto non mi frega e così ho concluso la missione eh 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 hai visto? bella lì bella lì bella lì veramente sono contento sono contento in questo mezzo ok adesso vediamo la venger è ancora qui piazzato in aria quindi prima che chiudo il video andiamo a vederlo eccolo là su è bellissimo veramente stupendo stupendo bello ok questo video lo chiudo qui al prossimo video da Joker Games ciao a tutti